ciao a tutti ragazzi sono l'unico e su cazzo di ciao a tutti ragazzi sono l'unico e soli oggi siamo fermi dei donati su geometry dash siamo pronti a fare un nuovo livello dai lo proviamo in diretta sono sicuro che sarà un livello emozionante che lo finirò alla prima alla prima cosa ho fatto no ho sbagliato bene si guarda già bene mi dicono bella bene ho sopravato il mio record quindi va già bene vediamo se riusciamo a sopravlo di brutto oppure di pochissimo no lo stiamo sopravendo tantissimo bro ma che dici bro ma che dici farmi tutti fermi piano 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 no ti prego stavo andando così bene no che palle vabbè dai riproviamo forse per il fatto che stava andando così bene devo continuare e migliorare morco demonio morco demonio dai dai ci siamo vai spacchiamo tutto non spacchiamo la sega perché sono un pietà mi sono distratto e quindi ho perso il punto poi sentonati nel punto quello brutto o no quale navicella che è il punto ancora più brutto questo l'inferno no ce lo stavo facendo continuiamo dai ce lo devo fare porca puttana dai e su puoi non dovesti essere tanto difficile sono un pietà patentato quel posso dire facilissimo cioè quel punto io non dei più facili la mappa come ho fatto a sbagliarlo da qui parte il momento da cui non si torna più indietro le romale possibile che perdo così a cazzo ho tutte le carte regola per farcela non è assolutamente vero ma auto convincervi che ce la posso fare sono un pirla ma poi è un punto facile quello è che non ce la faccio mai finire i livelli ho finito soltanto i primi ho una marea di livelli devo ancora finire e io continuo ad iniziarne e tanto gli altri so che non li finirò tipo mai anzi forse nel 2000 mai li finisco vi odio tutti affanculo affanculo io me ne vado allora mi avete ma rotto il cazzo sto gioco è possibile che io prendo nei punti più semplici per un se mezzo secondo di distrazione un attimo dai che palle e poi questo gioco è stronzola o file practice che allora dici vabbè li puoi cominciare a zero cioè continuare oppure invece fai il porco schifo devi cominciare a zero se non fai il practice e mi incazzo come la bestia se non finisco ho sbagliato è di brutto dai ce la sto facendo l'ultima volta perché mi sto incazzando se non ce la faccio andare avanti ma dicono non dico finirlo perché non finirò mai cioè sicuramente non in questo episodio però presto comunque spero di finirlo cioè a meno di fare tipo un 50 per cento non sono manco arrivato a 50 per cento ti pego ti pego demonio quanto non sopporto sto gioco giuro mi fa salire l'odio tutto questo io vi saluto se il video vi è piaciuto come solito lasciate un commento mi piace seguitemi sui vari social che come noi video trovate nella descrizione il video vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo non so quando verrà pubblicato questo non mi interessa quando verrà pubblicato ci penserò nel momento in cui lo scaricherò ma voi nel dubbio fatevi sentire perché io leggo i commenti anche se questo qua verrà pubblicato molto probabilmente tipo a maggio a giugno non ho la prima idea fatevi sentire nei commenti per anche se io continuo non sono più attivo nel far video nel senso cia escono perché il programma ma di fatto non li sto più facendo comunque vostri commenti rilaggo e mi fa piacere che voi mi supportiate ancora anzi condividete se potete questo video con i vostri amici in modo che questa community cresca noi ci vediamo nel prossimo video ciao